Via Libra da parte mia con riserva per un'apertura di credito verso l'amministrazione, verso l'assessore affinché possa correggere alcune strutture che io ho rilevato nel corso dell'esame in commissione. Ad esempio quelle che sono le strutture, le famose DMO territoriali, credo naturalmente che vada corretto anche il discorso dell'osservatorio, vanno trovate ulteriori risorse per quanto arriva alla ristrutturazione delle strutture ricettive e quant'altro. Poi naturalmente ancora una volta sono esclusi dalla promozione turistica anche i privati in quanto tutte le risorse andrebbero agli enti pubblici. Sono naturalmente queste cose molto importanti che potrebbero essere riviste nel piano annuale.